Allora ha detto che mi fa molto piacere che sia venuti qui a trovare anche se lui ormai dice un povero vecchio però non ha intenzione ancora di mollare Grazie Qualche domanda? Dai Lasciamolo abusare Dice che è un peccato perché avrebbe voluto dirvi più cose Così Ha detto tante cose lo stesso abbiamo capito? Esatto Grazie Grazie No state zitti Dite qualcosa Grazie Io vorrei vedere la foto di Visconti dall'altra parte Questa è Luchino Maestro la foto in bianco e nero di là di Luchino Visconti? E' Luchino? Si Quella del famoso fotografo non mi ricordo Nessuno se lo ricorda E' Luchino Visconti, ci hanno fatto una foto in un'altra parte In un'altra parte E' Luchino Visconti che si è presa E' Luchino Visconti che si è presa E' Luchino Visconti che si è presa Grazie.